Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Beppo Oggi siamo qui con il signor Luque De Ale Bella E siamo qui in questo server naturalmente con le super hack Esatto Perché è un po' che non la chiediamo più sui server Facciamo un po' le prove persone Poi IBM, dai GBM Quindi ho modificato leggermente la skin Mettendoti col simbolo di YouTube dietro E delle cuffiette molto swag Che poi facciamo notare che il simbolino di YouTube è molto sbagliato Sì, volevo riempir solo il bianco ma fa niente Comunque possiamo andare nelle cubolacchi Dove sono tutte spente Giuro che non sto volando Orig03 Si Oh è uscito Bravo Ottima scelta E ha capito che siamo hacker E allora Ha capito che siamo veramente I pro gamers Tu lo sei? Ciao, sei in culandia Io sono il bluetto negro Che palle Ho trovato tre diamanti Ti faccio una crafting table Muore un altro Morto Il rosso l'hai già ucciso No, adesso vado inizio anche la strada Vado dal nero io adesso Eh, sto andando io Usa dal nero Ah, vabbè Vai in due Che siamo più veloci Vedi di non colpire me Prima si rompe sopra, tardo Eolee Manca il Verde Ne vinciamo una testa Tolgo la liberazione Tu intanto killami Perennemente 24 messaggi in un secondo Cioè, spiegatemi Buona Non è fatta Troppo facile Devo andare a 6 Eh, aspetta perché 27, 27, 27, 27 Entra Addio di una madonna Addio di una madonna Che cazzo fai Addio Ok Allora, blue air Eccolo qua, tardo Ti vengo a massare tardo Veccio lo sta riempiendo di ghiaccio Se non ti sbrighi Non è difficile Veccio Veccio Stanno distruggendo il mio Figa Veccio Vecchio mi cazzo face Vecchio mi cazzo face Vecchio mi cazzo face Porco E vincerò per la patria Vincerò Dai Tastiera di merda Vecchio Guarda che chi hai Ah basta Vinco io Poi basta Però sulla mia isola no Tranquillo Che la nostra prima io Buona E vince lui Quindi ragazzi Per questo episodio È tutto Sarò che sarà un breve episodio Noi però le nostre hack Non possiamo usarle tante Se no ci espelliscono dal server Ci escono dal clan Ci escono dal server Quindi per questo episodio è tutto Fateci sapere con un like se vi piace Commenti eccetera 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 Passate dalla nostra pagina facebook e dalla nostra pagina instagram Un saluto da Beppo Ciao E noi ci vediamo in un prossimo episodio Ciao a tutti